Bene, eccoci qui, ce l'abbiamo fatta. C'è stato un momento iniziale in cui il mio Mac aveva deciso di non far collegare a questo webinar che sta iniziando. Allora, bene, io sto cercando un attimo di prendere dimestichezza con tutta l'interfaccia qui di GoToWebinar con tutte queste belle e magnifiche cose. I webinar sono sempre un po' delle cose strane perché quando io di solito faccio i miei workshop oppure i miei corsi che ci sono insomma 50, 60, 100 e a volte anche più persone quando magari sono ospite di qualche evento più importante, allora tu c'hai il contatto delle persone, ce l'hai lì di fronte che ti guardano e quindi hai immediatamente un feedback, no? Vedi le persone che stanno lì che ti stanno guardando in quel momento, tu dici delle cose, le persone reagiscano. Invece quando fai un webinar a volte ti sembra di essere un po' un idiota perché stai lì che guardi il tuo schermo da solo in questa stanza, in questo momento mi trovo totalmente da solo, non so se mi vedete da qualche parte ma forse la webcam in questo momento è disabilitata. E quindi stai lì da solo che parli a questo schermo nella speranza che dall'altra parte effettivamente ci siano persone che ti stanno seguendo. Quindi voi in qualunque momento scrivete in chat in modo tale che io possa vedere quello che voi state scrivendo e magari posso anche rispondervi. Allora vediamo se riesco a mettere in moto tutta la situazione. Ecco siamo passati immediatamente alla slide numero 2, quindi ok siamo partiti, stavo cercando di far partire ecco qua la parte di domande. Ok dove posso trovare? Ok queste sono varie cose, perfetto. Bene, allora partiamo subito. 5 secondi per annotare questo link che potete vedere qui e partiamo immediatamente con quelle che sono le tecniche praticamente di comunicazione e di copywriting perché questa presentazione come potete vedere ora subito, la presentazione che ho preparato per questo webinar in realtà sfrutta tutte le tecniche di comunicazione di cui parlerò proprio all'interno di questo webinar. È un po' come dire un cerchio dove io vi parlerò di alcune cose e contemporaneamente le utilizzo all'interno di questo webinar stesso. Quindi attenzione perché come dico qui nella battaglia della comunicazione a sopravvivere saranno coloro che poi sapranno veramente combattere utilizzando le armi migliori, ovvero le parole inserite nei giusti contesti. Ora in realtà se come a volte faccio nei miei corsi dal vivo o nei webinar, cioè nei workshop dal vivo, se ci fosse la possibilità di controllarvi un attimo i battiti cardiaci prima e dopo aver letto questa frase che sta insomma da... eccola qui questa, nella battaglia della comunicazione a sopravvivere saranno coloro eccetera eccetera, se ci fosse la possibilità di controllarvi i battiti cardiaci vi accorgereste che durante la lettura di questo testo i vostri battiti cardiaci sono leggermente aumentati, cioè è aumentato il battito cardiaco. Perché? Perché effettivamente le parole che ho utilizzato in questa frase non sono a caso, utilizzano quelle che viene chiamate la metafora della guerra e noi siamo molto sensibili, cioè ogni persona, ogni essere umano è sensibile a tutti i tipi di metafore che vengono utilizzate. In particolare la metafora della guerra o comunque in ogni caso tutte le parole che noi utilizziamo vengono sempre processate dal cervello in maniera, in una doppia maniera, una maniera semantica che è quello diciamo il significato in generale di quello che noi andiamo a leggere. Quindi ad esempio a volte si fa l'esempio non pensare a un elefante rosa, se io ti dico non pensare a un elefante rosa poi in realtà tu l'elefante l'hai pensato lo stesso e poi hai interpretato la frase non pensare a un elefante rosa. Perché questo? Perché la prima elaborazione che fa il cervello delle parole è un'elaborazione del significato della parola intrinseca, quindi elefante e rosa. Quindi immediatamente il cervello, la parte più antica del cervello è elaborato l'immagine, perché l'immagine è la parte più, è la cosa più veloce che il cervello riesce a elaborare, perché come vedremo durante questo webinar in realtà il vero cervello, quello che veramente poi elabora le informazioni veloci e che poi decide effettivamente cosa dobbiamo fare e cosa no è il cervello rettile, ma lo vedremo tra un attimo. Quindi quando tu dici non pensare a un elefante rosa in realtà la prima interpretazione che fa il cervello è quella delle singole parole, quindi non, poi la parola elefante e crea l'immagine elefante, rosa, capisce che c'è un colore rosa, quindi fa un elefante di colore rosa, poi interpreta tutto il significato grammaticale della persona, cioè della frase, non devi pensare, quindi eventualmente dici ok, allora non devo fare questa cosa, ma nel frattempo l'immagine l'ha già creata. Questo è il vero potere delle parole, le parole creano immagini che creano emozioni che spingono all'azione, lo vedremo tra un attimo. Ora rilassiamoci e vediamo questa bella immagine di questo bel cannolo siciliano, che è tutt'altro rispetto alla metafora della guerra. Anche le immagini sono molto forti, nel senso che le immagini riescono a creare emozioni nella testa della persona. Ora questa immagine qui del cannolo in realtà io ve l'ho messa per un motivo molto semplice, perché come dice qua mio zio vende parole, un po' di tempo fa ero in Sicilia con mia sorella, perché insomma volevo passare qualche giorno con i miei nipoti, che praticamente non vedo mai perché sono spesso in viaggio, e che cosa è successo? È successo che a un certo punto un'amica di mia sorella mi chiede, sì ma tu poi effettivamente che lavoro fai? Allora mentre stavo lì che cercavo di pensare, una risposta intelligente a dare a questa persona, in realtà arriva Alfredo di otto anni e risponde così, mio zio vende parole. La cosa mi ha lasciato un po' sconcertato, uno perché non avevo alcuna idea di dove Alfredo avesse preso questo concetto dell'unzio copywriter che si occupa di web marketing e così via, e poi la sintesi, mio zio vende parole, il che è proprio vero, perché effettivamente sono state pagate 5.000 parole, 5.000 euro, dollari in questo caso, 5.000 dollari, per sole 9 parole. Ora, quanti di voi, voi in questo momento siete 139 collegati, quanti di voi pagherebbero, quanti di voi vorrebbero trovarsi in questo scenario, ovvero scrivere 9 parole ed essere pagati 5.000 dollari. Cioè potete anche dirlo se da qualche parte questo bel webinar permette di scrivere sì o no. Ora immaginate anche un'altra cosa, questi 5.000 dollari, per queste 9 singole parole, in realtà sono state pagate nel 1930, insomma più o meno, e quindi pensate il peso di questi 5.000 dollari nel 1930. Era la Texaco che l'ha pagata, è uno dei più grandi venditori, e anche copywriter del mondo, che si chiamava Elmer Willer. E la storia praticamente è questa. Probabilmente vi siete trovati in questa situazione, siete arrivati dal benzinaio, vi siete fermati magari per fare il pieno e fare il benzina, poi il benzinaio sorridente come questo ragazzo si è avvicinato e vi ha detto, facciamo una controllatina a livello dell'olio. Ora, come si può rispondere a questa domanda? Si può rispondere con un sì oppure con un no. In realtà, qua tutti quanti rispondiamo no. E rispondiamo no, pensateci. Cioè, fate un attimo, tu che in questo momento mi stai ascoltando, voi che state ascoltando questa cosa, fermatevi un secondo, mettetevi proprio nello scenario. Vi siete fermati con l'auto, il benzinaio ha messo la benzina, a un certo punto ha detto, facciamo una controllatina a livello dell'olio. E voi molto probabilmente avete risposto no, senza furvi nessuna domanda sull'effettivo livello dell'olio. Ora, è chiaro che qualcuno lì in mezzo tra di voi avrà sicuramente chiaro qual è il suo livello dell'olio, forse l'ha anche controllato il giorno prima, ma la maggior parte di noi non controlla l'olio da un sacco di tempo. Eppure risponde no, perché? Ora, la risposta è che no, perché tanto quello poi mi vuole vendere l'olio, no, perché quello insomma non voglio cacciare soldi e roba simile. Ora, che cosa è successo? Questo era il problema della Texaco. Era il problema che non riusciva a vendere l'olio sulle sue stazioni di servizio. Per cui ha chiamato Elmer Wheeler e gli ha detto, come possiamo fare in modo che il benzinaio cambi la domanda in modo tale che io riesca a vendere più olio. Ed ecco che cosa ha pensato Elmer Wheeler. Ha pensato di scrivere questa frase, che tradotta, semplicemente si può dire, oggi, proprio letteralmente, l'olio è al giusto livello, signore. Che cosa è cambiato rispetto a prima? Questa è molto importante, questa cosa qui. Che cosa è cambiato rispetto alla domanda di prima? Pensaci un secondo. Prima ti stava dicendo, facciamo una controllatina all'olio? Ora ti sta dicendo, l'olio è al giusto livello? C'è una bella differenza tra la domanda di prima e la domanda di ora. La domanda di prima è una domanda che si chiama esterna, cioè senza responsabilità. Facciamo una controllata all'olio? No, grazie. La seconda domanda, la quale tu comunque puoi rispondere di no, però in realtà ti mette un dubbio, cioè nel senso che ti spinge a fare una riflessione interna. Ti sta dicendo, è al giusto livello? E tu per rispondere sì o no, anche se lo fai istintivamente, facci caso, impieghi qualche decimo di secondo in più. Cioè, stai lì a pensarci un attimo in più. Effettivamente è al giusto livello o no? Quando è stata l'ultima volta che ho controllato l'olio? E questa è la grossa differenza. Ed è grazie a questa frase che la Texaco ha aumentato del 30% la vendita dell'olio sulle stazioni di servizio. In realtà possiamo fare un ragionamento leggermente diverso, cioè un esempio leggermente diverso e molto più semplice che questo. Io in questo momento potrei chiedere a tutti voi, e potrei farvi questa domanda, sei in grado di fare un uvo sodo? Sai fare un uvo sodo? Se io vi chiedo sai fare un uvo sodo, voi potete rispondere semplicemente con un sì, certo, so fare un uvo sodo. Ma se utilizzo una parola che io chiamo parola potenziante, aggiungo una parola specifica e ti dico ma tu sai davvero fare un uvo sodo? Sto utilizzando la parola davvero. Qual è la differenza tra la domanda che ho fatto prima e la domanda che sto facendo ora? Sai fare un uvo sodo? Tu puoi rispondere tranquillamente no, sì, sì, lo so fare un uvo sodo. Ma se io ti dico sai davvero fare un uvo sodo? Puoi sempre rispondere sì, ma quel davvero ti spinge a una riflessione interiore, quantomeno ti spinge a riflettere sul fatto di dire forse questo sa qualcosa che io non so. Quel davvero ti spinge a una riflessione interna. Ecco quindi che le parole sono fondamentali per cercare di fare in modo che la persona dall'altra parte, quando tu scrivi un messaggio, devi fare in modo che quella persona faccia un piccolo movimento interno, cioè vada su se stessa. Ora andiamo più in profondità su queste cose. Quindi è assodato che oggi comunicare in maniera efficace è sempre più difficile. Perché è sempre più difficile? È sempre più difficile perché le distrazioni sono infinite, soprattutto sul web. Guardate che sul web noi siamo veramente distratti continuamente da tantissime cose, perché magari abbiamo più istanze del browser aperte, abbiamo Facebook, abbiamo i banner, abbiamo tante cose che ci vengono in mente, abbiamo click e link da cliccare, insomma siamo continuamente distratti dal punto di vista del web. Poi ci sono tutte le distrazioni esterne, la televisione, la radio, quello che vediamo, quello che ascoltiamo, le persone. Quindi comunicare è difficile perché è difficile vincere la soglia dell'attenzione. Guardate, oggi sono due le monete più importanti in assoluto. L'attenzione e il tempo. Ed è su questo che si gioca veramente la differenza. L'attenzione e il tempo. Cioè voi attraverso la comunicazione dovete in primo luogo catturare l'attenzione della persona che ci vede di fronte. Ma la seconda cosa, la cosa più complicata che nessuno vi dice, è quella di mantenere, cioè di trattenere la persona sulla vostra comunicazione. Perché attrarre l'attenzione, per certi versi, non è neanche difficile. Basso un titolo scritto in una maniera accattivante, no, questo è l'alimento che ti fa perdere 50 kg. E tu stai lì a scoprire qual è questo alimento che ti fa perdere 50 kg. Se andate sul mio blog, blog.67.agency, trovate un articolo che dice 30 modi per scrivere un titolo accattivante. E trovate veramente 30 modi scientificamente provati per scrivere un titolo accattivante. Ma poi se il vostro contenuto non è granché, le persone comunque andranno via. Quindi trattenere le persone sulla vostra comunicazione è veramente, veramente fondamentale. Tuttavia, se ora sei qui, nonostante tutto, allora hai deciso di imparare. Ora, questa frase messa così è importante perché viene sfrutta a quelli che vengono chiamati i truismi. Molto spesso questi truismi vengono utilizzati dai politici, che ti dicono, se voi siete qui in questa giornata di sole, se voi siete qui nonostante il coronavirus, nonostante i grossi problemi che ci sono in giro, se voi siete qui, allora siete persone speciali. Se voi siete qui, allora veramente avete voglia di imparare. Allora veramente imparerete. Per questo, nei prossimi 40 minuti, affinerai la tua intelligenza comunicativa. Che cosa è successo? Che tipo di comunicazione è questa? Il cervello funziona per euristiche, cioè funziona per scorciatoie mentali. Visto e considerato che il cervello, pensa, il cervello assorbe il 30% di tutta l'energia del corpo umano, per cui il suo funzionamento deve, è programmato per cercare di consumare il minimo possibile delle risorse. Per poter consumare il minimo possibile delle risorse, deve sfruttare quelle che chiamano le euristiche, cioè delle scorciatoie. Per cui, se io ti dico che sei qui nonostante il coronavirus, e tu dici sì, è vero, sono qui, sei qui nonostante le grosse difficoltà, sì, è vero, sono qui nonostante le grosse difficoltà, sei qui perché questa è una giornata, nonostante la giornata di sole, e tu dici sì, effettivamente fuori in una giornata di sole, allora qui tu imparerai un nuovo concetto e migliorerai la tua intelligenza comunicativa. Questo passaggio è un passaggio molto particolare, dove tu praticamente hai dato al cervello dei concetti veri, hai detto questo è vero, questo è vero, questo è vero, poi ti hai dato una conseguenza, e questa conseguenza sembra logica per il tuo cervello, per cui sembra che quell'affermazione è puramente vera, è giusta, è logica, è corretta, e invece non è vero, perché può essere che tu in questi 40 minuti avrai perso 40 minuti della tua vita, non è detto che migliorerai la tua intelligenza comunicativa, ma ha molto senso perché viene dai truismi. Anche questa roba qui la approfondiremo tra poco. Allora, finalmente mi presento, perché volevo un attimo farvi entrare immediatamente nel concetto di quello che dovevamo fare, e questa è la famosa slide egocentrica che tutti i relatori a un certo punto devono mettere, ed è importante la slide egocentrica, e lo dico sempre, che al di là di far vedere insomma i libri che ho pubblicato, il podcast che tengo ogni mercoledì, il canale Telegram dove ogni giorno io e Giuseppe Franco pubblicavamo due cose, al di là tutta questa roba, perché è importante la slide egocentrica? Cioè perché è importante questa cosa? Magari è importante far vedere anche i brand con i quali ho lavorato o ho instaurato le collaborazioni e così via, è importante far vedere questa roba per un semplice motivo, perché quando una persona deve relazionarsi con un'altra persona o con un'azienda o con qualsiasi altro prodotto, è necessario chiamare quello che viene chiamato il pre-frame, guardate, il pre-frame è fondamentale, il pre-frame è una cosa importantissima, immagina di trovarti davanti a un ristorante, siamo senza l'era di internet quindi non c'è TripAdvisor, non c'è questa roba qua, sei davanti a un ristorante, sei con una persona che ti interessa fortemente, quindi magari potrebbe essere la tua fidanzata, la tua futura fidanzata, la tua futura moglie oppure una persona che hai portato a pranzo per fare business e così via, sei davanti a questo ristorante e in questo ristorante non ci sei mai entrato e quindi un attimo prima di entrare sei, come dire, preso un po' dall'ansia perché dici ok, si mangerà bene, si pagherà il giusto, cioè come mi andrà questa storia? Ora, immagina che un attimo prima di entrare arrivi un tuo amico che ti dice guarda, io in questo ristorante ci sono stato proprio ieri, si mangia benissimo, si paga il giusto, in quell'istante tu ti rilassi e entri al ristorante, che cosa è cambiato? È cambiato il pre-frame, cioè quella persona ha costruito il tuo pre-frame, cioè ha costruito una cornice in cui tu sei andata ad inserire quel tipo di ristorante. Allora, se io in questo momento cerco la tua azienda, cerco te come professionista sul web perché non ti conosco e inizio a cercare chi sei, che cosa mi uscirà? Cioè, quale sarà il pre-frame che io costruisco? Cioè, che cosa troverò? Troverò magari dei video su YouTube, troverò il tuo blog, troverò alcuni post interessanti, troverò qualcuno che ti ha citato sul proprio blog, troverò un'intervista, cioè che cosa troverò? Se in questo momento tu cerchi magari informazioni su di me, scrivi Massimo Petrucci sul web, troverai magari i miei video, troverai i miei libri, troverai le mie interviste, il mio podcast, tutta una serie di cose, allora potrai costruire il tuo pre-frame, cioè mi potrai costruire una cornice dove inserirmi. Se questa cornice è di tuo interesse, allora potrai dire, ok, questo tizio comunque ha le carte in regola per darmi le informazioni che sto cercando, perché mi sembra un esperto di web marketing, di copywriting e così via, di comunicazione o quello che è, oppure potrai dire no, è un cretino, non mi interessa. La costruzione del pre-frame è molto importante, quindi mettiti nei panni di una persona totalmente sconosciuta che non sa nulla di te, né come azienda, né come professionista. Fai in modo che questa persona ti cerchi sul web per qualsiasi motivo e inizi a cercare informazioni su di te. in che modo si costruirà questa cornice? Perché in base alla cornice che costruisci intorno a te ti darà peso o meno a quello che poi tu gli andrai a dire eventualmente, cioè che troverà. Per questo è importante riuscire a costruire il giusto pre-frame. E andiamo avanti. Quindi che tu sia un comunicatore, un imprenditore, un professionista, è ora di riuscire a cambiare il modo di comunicare. Per cambiare il modo di comunicare è fondamentale comprendere che noi non abbiamo un solo cervello ma abbiamo tre cervelli diversi. Il cervello chiaramente è sempre lo stesso ma ci sono tre aree di cervelli che in qualche modo influiscono l'una sull'altra con pesi diversi. Abbiamo in particolare il cervello rettile che è quello che ti sta guardando in questo momento sulla tua sinistra con quello sguardo un po' così. Al centro abbiamo il cervello limbico e poi abbiamo il cervello razionale. Il cervello che poi veramente decide cioè quello che veramente poi alla fine ti fa prendere una decisione su quello che devi fare o non devi fare è il cervello rettile purtroppo ed è un cervello che non sa leggere è un cervello che non sa scrivere è un cervello che non sa contare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi andiamo ad infarcire la nostra comunicazione semplicemente di numeri di logiche di cose che ci sembrano giuste perché diciamo ok se io sto dicendo che questo prodotto è economico sto dicendo che questo prodotto è di qualità sto dicendo che questo prodotto te lo vengo a portare fino a casa sto facendo tutto un discorso logico allora perché poi non vendo? Non stai vendendo per un semplice motivo non vendi perché non stai convolgendo quello che è il cervello rettile che è il cervello più importante il cervello limbico invece è il cervello delle emozioni mentre il cervello razionale è quello purtroppo che si è evoluto nell'ultima fase dello sviluppo umano ed è quello della neurocorteccia ovvero quello che poi alla fine riesce a parlare a contare quello che riesce a creare strutture logiche ma è anche quello più influenzabile ed è l'ultimo che prende la decisione se non sei riuscito a convincere nell'ordine il cervello rettile il cervello limbico il cervello razionale non riuscirà mai a coinvolgerlo realmente cioè non riuscirà mai a prendere la decisione da sola quindi cosa vuol dire questo? vuol dire che noi in buona sostanza siamo esseri totalmente emotivi e irrazionali che decidono in modo emotivo e si giustificano dal punto di vista razionale vediamo come la vera sfida quando costruisci la tua comunicazione è proprio questa è riuscire a creare un testo ma questo vale anche se stai creando un video quindi se stai parlando in pubblico cioè ogni volta che tu crei la tua comunicazione devi pensare a questi tre livelli devi pensare al cervello rettile al cervello limbico e al cervello razionale ora il cervello rettile che è un cervello antico sta lì e pensa cioè la domanda che si fa è questa dice mi posso fidare cioè mi posso fidare di questa persona che sta parlando in questo momento mi posso fidare di questa azienda mi posso fidare è proprio una questione molto di pelle tanto è vero facci caso pensaci rifletti su questa cosa tu quando c'è una persona che non ti piace quando stai parlando con qualcuno che non ti convince tu in realtà la tua frase non è ho elaborato un indice del 30% del 40% che mi dice che questa persona al 20% mente al 30% è falsa al 42% no tu dici semplicemente sento che questa persona non fa per me sento che questa persona non è giusta quindi la prima cosa il primo livello da andare a superare è proprio questo qui cioè il livello del cervello rettile il secondo livello che devi andare a superare invece è quello del cervello limbico il cervello limbico è un cervello curioso è un cervello che è attratto dalle storie dallo storytelling dal racconto del raccontare quello che succede è un cervello curioso quindi in qualche modo deve essere colpito proprio in questo modo dal racconto dalla curiosità dalle emozioni mentre alla fine devi andare a costruire quello che poi è il cervello logico il cervello logico si chiede quanto c'è di logica in tutto quello che ho appena ascoltato quindi mi posso fidare mi interessa questo argomento mi interessa questa roba quanto c'è di logico in questo se riesci a rispondere sì a tutte e tre queste domande allora hai costruito una comunicazione potente una comunicazione che sta parlando ai tre cervelli in buona sostanza la domanda alla quale devi rispondere qualunque sia la tua comunicazione è questa qua io cosa ci guadagno e questa è la cosa più importante perché se non riesci a rispondere velocemente a questa domanda io cosa ci guadagno hai perso le persone io cosa ci guadagno non è soltanto una questione economica è una questione di tempo è una questione di emotività è una questione di felicità è una questione di status sociale è un guadagno questo è molto importante ecco all'inizio ho detto qual è la cosa più importante due sono le cose importanti il tempo e l'attenzione ora pensa che l'attenzione media di un pesce rosso che ti guarda attraverso la sua boccia lì fermo e che ti guarda negli occhi prima di distogliere lo sguardo e andarsene all'altra parte il tempo massimo che riesce a dedicarti un pesce rosso pensa che è di 8 secondi ma qual è il tempo medio di un essere umano sul web prima di perderlo il tempo medio di un essere umano sul web prima di perderlo è di 7 secondi cioè è più facile fare affari con un pesce rosso che con un essere umano cioè questa è la cosa allucinante cioè il tempo medio dell'attenzione di un essere umano sul web è di soli 7 secondi questo deve farti riflettere molto vuol dire che la tua comunicazione deve essere una comunicazione semplice veloce chiara con pochissimi fronzoli perché altrimenti bastano solo 7 secondi per perdere totalmente l'attenzione della persona che in quel momento è online quindi a meno che non vuoi fare affari con questo personaggio allora devi andare a costruire la tua comunicazione in maniera diversa nel libro che ho vivrati con quantistico che vedi qui sulla sinistra che vedete insomma siete un po' di gente in questo momento sulla sinistra io parlo di la quantistica viene da minima quantità cioè la minima quantità efficace di parole per indurre nella persona uno specifico stato emotivo da spingerlo a compiere l'azione desiderata fai molta attenzione a questa cosa minima quantità efficace e stato emotivo queste sono le due cose più importanti cioè riuscire a creare una comunicazione che utilizzi la minima quantità di parole per indurre uno stato emotivo quindi non stiamo parlando di un'azione generata dalla logica delle parole ma dello stato emotivo perché questo perché in realtà il concetto molto importante che bisogna capire delle parole prima poi di metterle insieme in un certo modo altrimenti poi il copy diventa soltanto un copy e incolla messo sui puntini ma quello non serve a niente cioè la storia che a volte vi raccontano di gli schemi per sostituirsi il tuo prodotto qui sui puntini tutta sta roba non serve a niente perché ti fa creare una comunicazione copia e incolla uguale a tutti e poi alla fine non ti distingui ma principalmente non crei emozioni invece le parole servono a creare immagini perché? perché poi le immagini creano le emozioni e sono le emozioni che poi spingono all'azione questo è molto importante quindi che cosa vuol dire i quanti? vuol dire che devi suddividere la tua comunicazione su tre livelli principali la prima prima di tutto sono i quanti di attenzione che servono per catturare l'attenzione della persona e questo lo puoi fare attraverso ad esempio una promessa oppure una big idea cosa vuol dire una promessa? vuol dire che se tu hai un prodotto molto complesso da spiegare e cominci la spiegazione del tuo prodotto immagina di fare un video inizi con la spiegazione del tuo prodotto e mano mano vai avanti è molto probabile che la persona dall'altra parte che sta ascoltando perda interesse e quindi magari cambia video a vedere un'altra cosa quindi hai bisogno di una promessa cioè se in questo momento iniziassi a parlare all'infinito vi perderei tutti se invece ti dico guarda che da qui a un po' questo c'è un progetto che vale un milione di euro e te li voglio far guadagnare però devi ascoltarmi per la prossima ora se faccio una promessa di questo tipo chiaramente è a livello didattico lo stiamo facendo allora tu sai che stai per guadagnare un milione sai che è una cosa molto importante quindi sei risposto a darmi tempo quindi ti vuole una promessa una big idea cioè prometti qualcosa all'inizio ti prometto che ti farò avere questa cosa ti prometto che ci guadagnerai questo ora inizia ad ascoltarmi il secondo livello sono le informazioni minima quantità efficace cioè minima quantità efficace di parole ora lo vediamo proprio con un esempio reale fatto con un cliente che fa trading e quanti di tempo chiaramente non dovete stare lì con il cronometro in mano a cercare di fare blocchi da 7 secondi vuol dire però che con una quantità molto piccola di parole breve dovete cercare di esprimere un concetto che si apre e si chiude ora vi faccio vedere una cosa guardate questa schermata questa è la schermata di spotify probabilmente l'avete vista ed è geniale ed è fantastica perché è fantastica e geniale perché in realtà in pochissime parole riassume tutti e tre i concetti del cervello rettile vi faccio vedere ve lo dimostro guardate la prima frase è una frase che viene chiamata generativa cioè la musica è per tutti è una frase che non riesce andarci contro anche se razionalmente potresti contestarla cioè la musica è per tutti sì ok ma neanche cioè voglio dire perché ci potrebbero essere persone che non sono interessate alla musica però è una di quelle frasi generative sulle quali non riesci a dire no non riesci a andarci contro non puoi andarla a contestare quando dici la musica è per tutti libertà per tutti meno tasse per tutti insomma tutte queste frasi molto genetiche cioè generative sono quelle frasi che ti colpiscono da un punto di vista puramente emotivo che non hanno una vera e propria razionalità quindi la musica è per tutti il secondo livello della frase sta scritto milioni di brani senza alcuna carta di credito milioni di brani sta andando a colpire il cervello rettile perché perché il cervello rettile è un cervello sensibile alle quantità è sensibile al gratis tant'è vero che sicuramente avrete avrai insomma tu tutti voi che state ascoltando ho avuto l'esperienza di andare a un matrimone e vedere che quando si apre il buffet dove c'è il parmigiano gratis in quantità il prosciutto gratis in quantità il buffet dei dolci in quantità e così via a un certo punto persone che fino magari a insomma un'ora prima avevano mangiato e sappiamo perfettamente insomma che a loro non manca nulla a un certo punto perdono totalmente il controllo e si accalcano a questo buffet come se non avessero mangiato da giorni perché è semplicemente il cervello rettile che si attiva e dice ce n'è in quantità e allora questa cosa mi interessa e poi c'è il rischio la paura della perdita cioè perdo magari la possibilità di mangiare quel parmigiano gratis milioni di brani attiva proprio quest'area del cervello del cervello antico dove ti dice che c'è milioni di roba c'è tantissima quantità e quindi si attiva quest'area sensibile del cervello e poi ti vado immediatamente a superare quella parte invece che tu stai lì che ti viene il dubbio mi posso fidare se questi poi vogliono la mia carta di credito e se questi poi vogliono i miei soldi infatti immediatamente sto dicendo senza alcuna carta di credito e questo è importante senza alcuna carta di credito perché immediatamente ti sto rassicurando quindi la musica è per tutti ti sto creando uno stato emotivo positivo milioni di brani ti sto facendo venire l'acquolino in bocca senza alcuna carta di credito sto andando praticamente a lavorare sulla parte della rassicurazione ti sto rassicurando ti sto dicendo che non sto prendendo i miei tuoi soldi dopodiché cosa molto importante c'è l'invito all'azione cioè la call to action scarica Spotify free scaricalo gratis il tasto è verde anche il verde è un colore che ti invita ad andare avanti tipo un semaforo verde e così via tutta questa pagina è costruita proprio dal punto di vista del neuromarketing è perfetta proprio dal punto di vista del ragionamento dei tre cervelli andiamo avanti ora sui miei studi praticamente ho approfondito che ci sono tre livelli di lettura ora voi non dovete andare a leggere quello che sta scritto là dentro ma dovete soltanto comprendere alcuni passaggi importanti e sono questi qua perché da qui arriviamo poi a capire come si va a costruire un testo ci sono tre tipologie di lettori chiaramente questi sono dei prototipi perché poi noi nella realtà siamo un po' l'uno un po' l'altro però è questo ci interessa perché ci fa capire come le persone poi interagiscono con un testo scritto ci sono quelli che io chiamo gli Sherlock che vorremmo che tutti quanti i nostri potenziali clienti di Sherlock perché sono quelli che leggono il testo dall'inizio alla fine poi ci sono i surfer che invece sono quelli che in pratica cosa fanno leggono soltanto alcune frasi per periodo cioè per paragrafo a colpo d'occhio colgono alcune parole alcune frasi di ogni paragrafo cercando una frase di loro interesse dopodiché se individuano una frase di loro interesse in quel paragrafo magari leggono il paragrafo e alla fine ci sono i flashman i flashman sono ancora più veloci dei surfer cioè non leggono neanche gruppi di parole cioè gruppi di frasi ma leggono una o due parole al massimo e cercano di individuare quella parola di loro interesse dopodiché leggono la frase e leggono l'intero periodo per questo vi dicevo prima la questione dei sette secondi o delle poche parole perché? perché dovete fare in modo che ogni paragrafo del vostro testo sia ben definito abbia in inizio una fine ed esprime un concetto molto chiaro in modo tale da andarsi a prendere il surfer o il flashman e poi fare in modo che vada a leggere il resto del testo facciamo proprio un esempio pratico e reale ecco qua questo è un caso reale questo è un mio cliente che fa trader e questa è una parte in una delle mail dell'email che arrivava ai suoi clienti che si iscrivevano al corso ora guardate un po' questo dice molto velocemente ciao nome hai fatto la cosa giusta decidendo di formarti ancora prima di partecipare all'evento dell'8 aprile in cui insieme ai migliori trader italiani ti illustrerò in modo chiaro semplice e gratuito come crearti una rendita extra mensile trovi il link dell'ebook alla fine di questo messaggio clicca e scoprirai i sette passaggi fondamentali eccetera eccetera la partecipazione all'evento è gratuita e ti permette di ottenere tantissime informazioni e così via nei prossimi giorni ti invierò altre risorse che sono sicuro ti aiuteranno e così via questo è praticamente il testo dell'email guardate un po' guardiamo gli elementi quantici hai fatto la cosa giusta trovi il link dell'ebook alla fine di questo messaggio la partecipazione all'evento è gratuita nei prossimi giorni ti invierò altre risorse come vedi cioè se ci andiamo a leggere semplicemente i grassetti senza dover approfondire quello che si è scritto nei vari paragrafi in realtà anche a colpo d'occhio l'e-mail funziona cioè spiega quello che deve fare hai fatto la cosa giusta trovi il link dell'e-mail dell'e-book alla fine di questo messaggio la partecipazione all'evento è gratuita e nei prossimi giorni ti invierò altre risorse questo è il concetto che sta alla base poi nel copywriting quantistico cioè creare dei paragrafi che abbiano un loro inizio e un loro inizio e un loro inizio e trasmettono ognuno un'informazione precisa in modo tale che anche a colpo d'occhio la persona possa comprendere bene di cosa si tratta poi se vuole approfondire approfondisce e vede anche che ci sono altre informazioni questi sono 16 ganci quantici cioè sono 16 ganci che vi permettono ti permettono insomma di creare delle comunicazioni efficaci perché sono quei ganci che attirano fortemente l'attenzione delle persone che leggono magari di questa slide fatti anche uno screenshot una foto perché è utile che sono soluzioni metodo consiglio la soluzione per risolvere questa cosa il metodo per ottenere questo e quest'altro i cinque consigli un'altra cosa interessante sono i numeri quando ci sono i numeri funziona sempre meglio i cinque consigli per investire in borsa la soluzione migliore per fare questa roba qua i quattro errori da evitare prima di acquistare un'auto usata i falsi miti relativi agli investimenti immobiliari e così via lo stato emotivo ansia frustrazioni scoprire che è facile anche questa è una cosa importante scopri come è facile perdere peso con questo metodo scopri come è facile investire in borsa chiaramente li sto facendo a livello didattico giusto per far comprendere i concetti allarme e pericolo pericolo sottovalutato non so il fatto che tu abbia una macchionina sulla mano non può significare niente ma può significare anche una cosa grave quindi allarme spesso una macchina sulla mano può significare un cancro alla pelle e quindi crei un pericolo sottovalutato reciprocità qua c'ha Aldini insomma ci ha fatto un libro che non finisce mai e ci ha fatto pure una carriera se io do una cosa a te alla fine tu ti senti in qualche modo obbligato a ridarmi qualcosa indietro ora vediamo tra un attimo cosa vuol dire la promessa quello che dicevo ti prometto che ti darò qualche cosa il beneficio immediato soprattutto per determinati prodotti come perdere come perdere 5 kg in una settimana è un beneficio immediato elemento spiacevole che puoi evitare grazie a una certa cosa il risultato desiderato lo svantaggio che puoi evitare il caso reale se metti all'interno di un discorso di una storia un caso reale funziona sempre di più tempo mancanza e guadagno cioè ti faccio guadagnare tempo ti faccio oppure ti faccio sentire la mancanza del tempo se voglio fare in modo che entrare poi nell'urgenza e scarsità che quello subito dopo il consenso sociale cioè tante persone già hanno fatto mille persone hanno già scaricato questo ebook cento persone hanno già fatto questo per far vedere che ci sono delle persone anche gli stessi commenti anche le stesse recensioni sono tutto sommato un consenso sociale e poi trucchi e segreti e questo viene molto spesso utilizzato dai markettari no dici il trucco per fare qui il segreto che nessun marketer ti dirà mai il segreto che nessuno chef vuole mettere in chiave insomma sono tutta questa roba sono dei ganci che ti servono per attirare l'attenzione del tuo potenziale cliente ora per giocare qui ho creato una frase molto semplice didattica che utilizza sei ganci quantici che stanno qua dentro quindi magari pensaci un attimo pensaci questi dieci secondi dodici secondi così pensa quanti ganci ci sono quali sono i ganci che ho messo in questa frase dammi cinque minuti e ti sveri il trucco che mi ha permesso di perdere cinque chili in soli dieci giorni quindi pensaci un attimo quali potrebbero essere questi ganci che stanno all'interno di questa frase pensaci un pochettino ora te li dico allora magari qualcuno l'avete anche individuato io non vedo se state scrivendo qualche cosa non lo vedo purtroppo da nessuna parte domande non vedo comunque in ogni caso questi sono i ganci alcuni dei ganci che stanno all'interno di questa di questa frase la reciprocità tu mi dai cinque minuti quindi tu dai qualcosa a me e io do qualcosa a ti e io ti svelo il trucco che mi ha permesso la promessa ti prometto che ti darò qualcosa dammi cinque minuti e ti svelo il trucco che mi ha permesso quindi ti sto facendo una promessa se tu mi dai una cosa ti prometto che te ne darò un altro il risultato desiderato sono i cinque chili non sono ti faccio perdere in qualche modo ti faccio perdere dei chili ti faccio perdere i cinque chili che è una cosa molto importante il caso reale sono io all'interno che mi hanno permesso di perdere a me cinque chili tempo in soli dieci giorni e poi trucche segreti chiaramente il trucco che mi ha permesso come vedi utilizzando questi ganci insomma ho creato questa frase un po' per gioco però puoi metterli insieme per creare una frase che poi è interessante per la persona che sta andando a leggere a quell'altra parte ora entriamo un poco più nel tecnico perché ora ci sono fatte fino a oggi fino a in questo momento una chiacchierata su quelli che sono i tre cervelli quelli che sono i ganci quanti e così via ora entriamo un po' più nella parte marketing quindi chi ha resistito fino a ora bravo perché a questo punto ora entriamo un po' più nello specifico proprio tecnico della comunicazione chi sono le tue buyer personas questo è fondamentale perché se tu vuoi creare un messaggio che funziona non puoi fare a meno di approfondire le buyer personas le buyer personas sono coloro che hanno che mettono mano al portafoglio che comprano quindi andiamo a esaminare due casi questo è un caso reale arancia rossa chi è la buyer persona di questa arancia rossa cioè chi è che compra l'arancia rossa ora è chiaro che tutti cominciano a pensare sì ma chiunque compra l'arancia rossa cioè la può comprare chiunque questo è vero però questa azienda ha fatto uno studio e ha visto che in particolare le sue buyer persone cioè la maggior parte delle persone che il numero più alto cioè l'ottanta per cento di coloro che comprano questa arancia rossa ricadono in due categorie specifiche e sono la mamma con bambino e la sportiva quindi se immagina tu di voler creare un messaggio pubblicitario quindi un annuncio ad esempio per vendere questa arancia rossa che cosa scrivi? potresti scrivere tranquillamente l'arancia rossa contiene la vitamina C e fa bene alla salute ok perfetto questo è il tuo messaggio l'arancia rossa fa bene alla salute va bene per la donna con bambino? potenzialmente sì va bene alla ragazza che fa sport? potenzialmente sì ma chi delle due si sente penamente presa in considerazione che sta dicendo ok questo è proprio il prodotto che fa per me nessuna delle due nessuna delle due sente che quello è il prodotto che fa per sé cioè nessuna delle due sente che quello è il prodotto che sta parlando a lei ma se io creo un messaggio e dico la vitamina C fa bene alla crescita del tuo bambino allora è chiaro che sto tagliando la donna che fa sport in questo momento ma la donna che c'è il bambino che legge questo tipo di annuncio si sente totalmente presa in considerazione sta dicendo questa azienda questo prodotto sta parlando a me sta dicendo che l'arancia rossa continua la vitamina C e fa bene alla crescita del mio bambino se fa bene alla crescita del mio bambino allora io creo un'immagine nella testa della donna e dico vede il bambino che sta crescendo sano e quindi se questo mio bambino sta crescendo sano allora questo prodotto è il prodotto che fa per me sta parlando alla parte antica del cervello cervello rettile cervello limbico sta creando un'immagine nessuno vieta a questa azienda di creare anche un altro tipo di comunicazione che dice guarda che l'arancia rossa grazie ai suoi sali minerali alla vitamina C e così via ti permette di integrare velocemente i tuoi sali dopo che hai fatto sport e quindi di riprendere immediatamente l'energia in questo caso sto tagliando fuori la donna con bambino ma sto parlando direttamente alla donna che fa sport quindi questa persona che fa sport quando legge questo messaggio dice ah ok sta parlando proprio a me quindi è molto importante quando si crea una comunicazione riuscire a capire chi è il tuo target e quali sono i tuoi segmenti e creare una comunicazione per ogni segmento facciamo un esempio più che scende ancora più nel particolare cerchiamo di capire la differenza che c'è tra target e segmento target e segmento eccolo qua chi è che compra questo pallone è chiaro che questo pallone lo può comprare chiunque è un appassionato di pallacanestro io potrei parlare a tutti gli appassionati di pallacanestro perfetto ma non è vero perché poi i segmenti sono questi qui o il giocatore professionista o il giocatore della domenica e o l'appassionato che sta lì sul divano in mano e che si guarda le partite è chiaro che se io devo andare a creare una comunicazione per vendere questo pallone devo andare a creare una comunicazione specifica al giocatore che gioca professionista parlerò magari della capacità del pallone dell'attrito del rimbalzo se così via a quello della domenica gli parlerò in maniera diversa gli dirò che questo è il pallone che lo farà sembrare Jordan e quindi farò un tipo di comunicazione diversa a quello della domenica o non comunico proprio oppure posso trovare un tipo di comunicazione per far sì che sia una cosa simpatica dico questo è il pallone che devi tenere con gli amici se veramente vuoi fare per la tua squadra del cuore cioè devo andare a creare una comunicazione specifica per ognuno dei segmenti quindi è molto importante che tu una volta che hai individuato il tuo target poi ti vai a tagliare i segmenti e per ogni segmento ti vai a creare la tua comunicazione perché perché ogni prodotto è acquistato in maniera diversa a secondo della baglia di persona tant'è vero che questo è un esempio reale di baglia di persona questo è vero in uno dei nostri studi abbiamo tirato fuori a Luisa che è una donna in carriera mi ha dato anche un motto mi chiamo Luisa sono una donna in carriera e non ho tempo è una persona di 35-40 anni sposata con una laurea un bambino piccolo una casa di proprietà lavora a tempo pieno una domestica attenta a ciò che mangia va due volte al ristorante e il suo problema è la mancanza di tempo è chiaro che quando tu hai una descrizione tale di una di una di una persona cioè di una di una baglia di persona la tua comunicazione riesce a essere molto particolareggiata per arrivare direttamente a lei ora voglio saltare questa parte perché voglio arrivare a una parte molto importante che è questa che è questa qui allora perché voglio andare a costruire ecco e qui ci sto un po' giocando su questa cosa cioè costruire un modello che vi permette praticamente di costruire messaggi veramente per tutti questa è una cosa molto importante perché qui sto scherzando cioè vi piacerebbe uno schema così semplice che anche lui è in grado di usare con successo e vi piacerebbe che vi piacesse guadagnare un bel muccio di soldi è chiaro che questa parte della comunicazione è provocatoria se usate una comunicazione come questa la maggior parte della gente scappa perché il cervello rettile comincia a muoversi in maniera cioè non si fida più dice ok questo mi sta fregando mi sta dicendo qualcosa ma non è vero non è così perché poi effettivamente questa roba è molto molto importante quindi ora è il momento di stare attenti perché questi sono gli ultimi cinque minuti e vi voglio dare questo strumento che è veramente potente allora in realtà quando voi parlate al cervello rettile limbico e razionale potete dividere la comunicazione in tre zone utilizzando tre strategie la prima strategia è quella di parlare al cervello rettile utilizzando ad esempio il ricalco situazionale la dichiarazione di leadership i campi di assenso il richiamo al cliente mentre il limbico utilizziamo l'anafore valore universale o storytelling linguaggio generativo e alla fine arriviamo sul razionale che è la guida singola guida a tre blocchi numeri e statistiche domande che generano un'azione andiamo a vedere nel particolare prendiamo come baglia la persona questa cioè quindi a chi vogliamo vendere vogliamo vendere a una madre con figlio fino a tre anni d'età il nostro obiettivo è raccogliere delle email quindi stiamo facendo una strategia di lead generation e il metodo del download dal catalogo del prodotto quindi vogliamo fare in modo che questa persona poi scarichi un catalogo quindi ci dia all'email ora che cos'è il ricalco situazionale il ricalco situazionale è quando noi cerchiamo un territorio comune con la persona dall'altra parte all'inizio se io vi ho detto oggi comunicare è difficile praticamente sto cercando un territorio comune con voi perché voi da quell'altra parte siete venuti qua siete venuti ad ascoltare qualcuno che vi parla di comunicazione quindi in qualche modo avete ben chiaro che la comunicazione è una cosa semplice oppure potrei dire se sto parlando a delle aziende e sto qui per insegnare a queste aziende come si fa business potrei dire oggi fare aziende è veramente complicato per questo e per quest'altro motivo la dichiarazione di leadership invece è perché noi siamo sensibili siamo comunque gregari quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica è il momento di fare le cose in maniera diversa è il momento da questo momento in poi le cose saranno diverse e così via i campi di assenso è quando invece cerchiamo di far dire alle persone almeno tre volte sì il richiamo al cliente invece per te che sei un operario per te che sei una casalinga per te che sei cioè stiamo andando direttamente sulla persona l'anafora è quando praticamente ripetiamo per tre volte lo stesso concetto i valori universali l'abbiamo visto prima un po' quando parliamo della ricchezza della salute e tutta questa roba lo storytelling sono i racconti il linguaggio generativo sono tutte quelle frasi come abbiamo visto prima la musica è per tutti eccetera ora andiamo a vedere nello specifico ecco guardiamo questo caso qui qui stiamo facendo stiamo prendendo un ricalco situazionale i valori universali e le domande che generano azione e dentro ci mettiamo il caso reale e il beneficio immediato ora guardate come costruiamo la comunicazione per andare a parlare a quella donna che ha un figlio fino a tre anni che le vogliamo far scaricare un catalogo allora ve lo leggo e poi ve lo spiego oggi scegliere con sicurezza cibi sane per il tuo bambino è sempre più difficile noi di XY abbiamo a cuore la salute dei bambini e pensiamo che ogni mamma debba sentirsi sicura quando scegliere l'alimentazione per il suo figlio fai come Laura che per sua figlia Gaia ha scelto XY sei pronto ad ottenere subito lo sconto del 15% e scegliere il meglio per tuo figlio scarica ora il catalogo e scopri più di 100 prodotti biologici e sani già pronti per te quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo individuato la baglia di persona perché sappiamo perfettamente a chi stiamo parlando all'interno ci abbiamo messo ricalco situazionale valore universale domande che generano azioni caso reale benefici immediato perché ricalco situazionale oggi scegliere con sicurezza cibi sane per il tuo bambino è sempre più difficile siamo su un territorio comune stiamo parlando a una mamma che deve scegliere cibi sane per il proprio bambino scusate ho buuto un po' d'acqua e quindi è una frase come fai a dire no eh sì è proprio così valori universali noi di XY abbiamo cura quindi stiamo a cuore alla salute dei bambini quindi stiamo su un valore universale che è quella della salute dei bambini e pensiamo che ogni mamma debba sentirsi sicura anche la sicurezza è un valore universale quindi abbiamo a cuore la salute dei bambini e pensiamo che ogni mamma debba sentirsi sicura quando scegli l'alimentazione per il suo figlio quindi il ricalco situazionale ha individuato una situazione complessa e dove praticamente si trova la mamma e abbiamo parlato del cervello rettile qui stiamo creando una questione più emotiva vogliamo che i bambini crescano bene vogliamo che le mamme siano sicure sono valori emotivi e quindi stiamo parlando un po' al cervello limbico ora andiamo ci mettiamo dentro anche il caso reale i benefici immediati fai come Laura ora noi non conosciamo Laura però quando sentiamo un nome ci sembra che sia vero fai come Laura per sua figlia Gaia che ha scelto XY sei pronto a ottenere subito lo sconto del 15% ora qui facciamo domande che generano azioni cioè una domanda che ti spinge a fare un'azione sei pronta allora vai sei pronta allora fai quindi sei pronta ad ottenere subito e c'è anche il beneficio immediato che è lo sconto del 15% a scegliere il meglio per tua figlia clicca ora sul catalogo e scopri più di 100 prodotti sani e già pronti per te questa è una comunicazione molto importante perché va a comunicare ai tre cervelli e ti dice perfettamente quello che devi fare ora vediamo lo stesso messaggio però creato con richiamo al cliente linguaggio generativo e guida a tre blocchi sono gli ultimi due slide e abbiamo finito gli ultimi due o tre slide ci mettiamo a consenso sociale e scoprire che è facile è sempre lo stesso concetto quindi se è una mamma di un bambino o di una bimba di meno di tre anni a questa età è molto importante scegliere alimenti sani e di alta qualità per questo abbiamo ideato la linea XYZ già scelta da altre 3.000 mamme come te inserisci i tuoi dati clicca sul tasto e scopri come è facile scegliere i cibi biologici e sani per la crescita del tuo figlio richiamo al cliente se è una mamma con un bimbo di tre anni richiamo al cliente abbiamo individuato perfettamente chi è la persona che deve andare a leggere sei un impiegato sei un operaio sei un avvocato questo è il richiamo al cliente e quindi linguaggio generativo a questa età è molto importante scegliere i cibi sani e di alta qualità è generativa cioè può significare tutto ma anche niente sono quelle frasi che dici è molto importante una statistica dice ogni volta che si dice è molto importante una statistica dice a questa età e bisogna fare in questo modo è una frase generativa anche perché a questa età è molto importante scegliere i cibi sani ma a qualsiasi età tutto sommato è importante scegliere i cibi sani per questa conseguenza abbiamo ideato questa linea già scelta da 3000 mamme che è il consenso sociale dopodiché andiamo a scoprire che è facile inserisci i tuoi dati clicca sul tasto scopri com'è facile scegliere questi cibi biologici per la crescita di tuo figlio quindi stesso concetto di prima raccontato in maniera diversa ultimo esempio dichiarazione di leadership anafora numero e statistiche e dentro ci mettiamo errori tempo e urgenza e scarsità quindi è giunto il momento di fare chiarezza sulle bugie e falsi miti dei prodotti bio è tempo che tu mamma possa scegliere con sicurezza alimenti sani per i tuoi figli per questo abbiamo ideato oltre 100 prodotti sani per questo abbiamo scelto solo ingredienti biologici per questo abbiamo creato un catalogo per rendere veloce la scelta del menu migliore per la crescita di tuo figlio oltre il 90% delle matrici l'abbonamento settimanale scopri come solo per le prime 100 che ci richiederanno eccetera eccetera anche in questo caso stesso concetto raccontato in maniera diversa dichiarazione di leadership è giunto il momento di fare chiarezza basta con questo e basta con quest'altro e poi ci abbiamo messo i falsi miti eccetera l'anafora è la ripetizione di un concetto per questo abbiamo per questo abbiamo per questo abbiamo che è una questione emotiva il cervello funziona in questo modo numere statistiche ci abbiamo messo oltre il 90% delle mamme scegli questo abbonamento eccetera eccetera e poi dentro ci sono i falsi miti il tempo urgenza e scarsità solo per le 100 solo per le prime 100 solo per le prime solo per questo giorno e così via altrimenti puoi perdi e quindi vai nel concetto di urgenza e scarsità perché quando il cervello rettile sente che c'è un'urgenza c'è una scarsità immediatamente si mette in moto per cercare di andarsi a prendere quel prodotto quindi questo praticamente è un corso che normalmente dura 4 ore io ho cercato di condensarlo per quanto più possibile in questi 50 minuti mi spiace di essere stato molto veloce in certi passaggi ma come dire ci tenevo a darvi quante più informazioni possibili poi potete anche chiedermi se volete le slide in modo tale che ve le vedete con più calma se volete potete scrivermi se avete in testa qualche domanda che volete farmi vi rispondo nel possibile a tutti quanti questo sono io se volete vi invito a visitare il canale telegram che basta andare qui su bitly.telegram667 io ogni giorno lascio contenuti di marketing gratuiti quindi trovate un po' di cose interessanti e poi c'è il podcast ogni mercoledì un'ora di informazione vi ringrazio tutti per essere stati qui sì sono Michele mi sono connesso un secondo giusto per salutarti per farti le ultime due domande al volo e poi lasciarti andare anche a te visto che immagino che sei a stanco per cui ti faccio una domanda che è arrivata che è un consiglio per chi si occupa di contenuti nel mondo food non solo aziende ma anche personal branding sia per questo difficile momento sia per il mare di contenuti che in questo momento ci sono relativi al mondo food cosa può fare uno per differenziarsi così ok mondo food però che cosa fa in particolare mondo food cosa fa in particolare Michele questa persona non ho capito se ha un ristorante se vende online di cosa si occupa ha chiesto un consiglio generale per chi si occupa di contenuti nel mondo food non solo aziende ma anche personal branding così ha scritto Roberta Romano è ok allora Roberta riformula magari questa domanda in maniera più precisa ti rispondo più precisamente in ogni caso questo è un momento delicato in cui le persone diciamo che i tre cervelli sono estremamente sensibili soprattutto il cervello rettile che è il cervello della sopravvivenza quindi le persone sono sensibili a tutto quello che riguarda tra virgolette la sopravvivenza quindi sono consigli per quanto riguarda il mondo food potremmo immaginare qualsiasi tipo di cosa che abbia a che fare tra virgolette alla sopravvivenza anche come ad esempio come riciclare le cose in casa come cucinare con il minimo degli ingredienti come quali sono quegli ingredienti che in questo momento oppure quegli alimenti che in questo momento ti aiutano a mantenerti più sano quali sono quegli alimenti che ti aiutano che aiutano il sistema immunitario a rinforzarsi perché sono tutte quelle perché in questo momento visto e considerato che il nostro cervello è tutto orientato ad ascoltare i telegiornali che parlano del virus ad ascoltare come si evolve e così via è chiaro che i nostri cervelli sono tutti orientati a tutto ciò che ci fa sopravvivere e questa parola sembra molto grossa in questo momento sopravvivere ma è così siamo molto sensibili ci laviamo più spesso le mani siamo attenti alle persone che ci stanno vicini ci allontaniamo siamo tutti quanti nelle nostre case siamo impauriti per cui tutto quello che in qualche modo ci possa tranquillizzare da una parte e ci possa aiutare tra virgolette a sopravvivere ci di no consigli in questo senso le persone sono molto più sensibili e quindi anche nel mondo food questa cosa può essere utilizzata a tuo vantaggio cioè una comunicazione positiva che aiuti le persone a tirare l'attenzione proprio da questo punto di vista quindi quegli alimenti che ti fanno stare meglio quegli alimenti che aiutano nel sistema immunitario gli errori da evitare per non sprecare i tuoi alimenti e così via cioè questo potrebbe essere poi nello specifico se avessi mangiare informazioni ti potrei dire più nello specifico cosa fare ha detto di occuparsi di editor di testi social media relation e così via però mi sembra che la tua risposta sia stata abbastanza completa per dare un quadro che comunque fosse ottimale per questa situazione sì più in generale è questo il concetto sì un'altra domanda che è arrivata non si corre il rischio di rendere inefficaci i messaggi costruiti con queste tecniche visto che sono tutti uguali alla fine no in realtà non sono tutti uguali perché è semplicemente una tecnica che ti permette di costruire dei messaggi seguendo una logica cioè quando tu parli di esempio andiamo qui richiamo al cliente il linguaggio generativo guida tre blocchi o quest'altro ricalco situazionale il ricalco situazionale è quando tu ti metti sullo stesso territorio del tuo potenziale cliente quindi se stiamo parlando di la persona che sta facendo si sta occupando del food ad esempio io potrei dire oggi trovare alimenti sani potrebbe essere una cosa complicata oppure potrei dire oggi trovare oggi gli alimenti la scelta dell'alimento è una questione molto importante oppure posso dire oggi che siamo a casa cucinare alimenti cucinare cose oggi che siamo a casa sembra sempre domenica attenzione però a non mangiare troppe cose che ci fanno ingrassare chiaramente sto improvvisando perché in questo momento ci dovrei riflettere cioè il copy non è una cosa che fai all'istante ci diventerà lavorare però sapendo che devo creare una parte del messaggio che parli al cervello rettile una parte del messaggio che parli al cervello limbico è una parte razionale che poi in buona sostanza non è altro che creare una comunicazione che colpisca la fiducia della persona dall'altra parte una parte della comunicazione che emozioni quindi devo pensare qual è la parte emotiva che posso metterci nel messaggio e poi alla fine qual è la parte razionale che posso metterci c'è la call to action l'ivitalazione le statistiche i numeri sostanzialmente è questo il contenuto cioè quello che ci metti dentro poi tu varia sempre cioè io come hai potuto vedere ad esempio noi abbiamo in questo esempio che ti ho portato della donna con il bambino di tre anni noi abbiamo costruito tre comunicazioni completamente diverse mettendoci sempre la stessa roba dentro però abbiamo costruito tre comunicazioni diverse quindi puoi costruirne quante ne vuoi per questo dicevo devi evitare il copia e incolla di quelle frasi dove fai sostituisci sui puntini mettici il nome del tuo prodotto il nome della tua azienda e poi venderai qualunque cosa perché non è così che funziona ma se comprendi questi meccanismi e quindi potrei dire compri il mio libro oppure compri il libro di Paolo Borzacchiello che è molto interessante cioè ti fanno capire come costruire effettivamente questi messaggi ma ti fanno capire la logica che c'è dietro la psicologia che c'è dietro dei messaggi cioè il copywriting se lo vuoi fare a un livello professionale devi capire che dietro c'è la psicologia se comprendi la psicologia che c'è dietro quindi psicologia sociologia antropologia allora poi comprendi che le tecniche le puoi applicare per costruire un messaggio interessante altrimenti applichi solo una tecnica e quindi poi alla fine finisci per fare tutte le cose uguali perché fai un copia e incolla di roba spero di essere stato chiaro in questa parte a me sembra di sì spero anche per loro ma stanno ringraziando per le risposte per cui immagino proprio di sì ci sono molti commenti positivi ti ringraziano per i vari contenuti io vorrei ricordare visto che è stato molto chiesto che tutti quanti i video di queste live vengono condivise sul nostro canale YouTube che vi invito a iniziare a seguire che è Rinascita Digitale se ci cercate ci trovate potete seguirci anche su Instagram sempre Rinascita Digitale idem Facebook dove condivideremo dei contenuti esclusivi sulle slide stiamo lavorando per condividervele prima possibile vi invieremo poi un link dove potete scaricare tutte le slide che i relatori ci hanno messo a disposizione per il resto mi sembra di aver dato tutte quante le informazioni di servizio domani vi daremo un nuovo link per l'accesso alla piattaforma perché abbiamo espanso il numero massimo di partecipanti che oggi era 250 ma abbiamo sforato ampiamente per cui da domani tenete controllata la mail perché vi arriverà un nuovo link dal quale puoi accedere per il resto niente ringrazio ringrazio Petrucci che come sempre è presente ai nostri eventi alle nostre iniziative e niente hai qualcosa da dire ancora tu? io ringrazio a te ringrazio a tutti e questa è una bella una bella iniziativa è molto bene in questo momento così delicato regalare e donare perché poi si guadagna karma positivo e credo che nella vita poi tutta questa roba ci torni indietro io sono a disposizione di tutti quanti se qualcuno ha domande mi può scrivere su Facebook mi può scrivere su LinkedIn vi abbraccio tutti resistiamo e come dire siate felici ovunque voi siate esatto perfetto grazie mille a tutti ci vediamo domani mattina ciao ciao a tutti grazie mille a tutti grazie mille a tutti